Covid-19 è la terza volta che la nostra regione tocca quota zero. L'unità di crisi ha confermato che ieri sono stati esaminati 4.115 tamponi, di cui nessuno risultato positivo. Il totale dei positivi in campagna dall'inizio dell'emergenza Covid è di 4.608, su complessivi 234.666 tamponi. Secondo le verifiche delle asole campane, sono emerse 230 persone che avevano fatto più di un tampone in ambienti diversi ed erano stati erroneamente conteggiati più volte. Nessun deceduto e 35 persone guarite nelle ultime 24 ore. Il numero totale dei deceduti è di 430 persone, mentre il totale dei guariti è pari a 3.832. Sono tutte con l'indice RT sotto l'1% le regioni italiane monitorate dal Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Il periodo di riferimento riguarda i casi con data di prelievo e diagnosi nella settimana dall'1 al 7 giugno, aggiornati al 9, confrontati con la settimana dal 25 al 31 maggio. Insomma, dati incoraggianti che fanno pensare che il peggio sia ormai alle spalle, ma gli esperti invitano ancora a non abbassare la guardia, rispettare le regole ed evitare assembramenti.